buongiorno ragazzi ben ritrovati buon inizio di settimana devo dirvi la verità sono più arrabbiato oggi di ieri forse perché ieri sera ero fuori a cena sullo schermo della televisione del ristorante appare la formazione ufficiale del milan io la guardo mi stroppliccio gli occhi e poi dico ma siamo sicuri che abbiano messo la formazione giusta pioli ha fatto un turnover da delinquente questa è la parola che secondo me più si addice va sotto giustamente per due gol a zero perché se fai una formazione del genere dopo l'europa league è giusto che tu vada sotto e poi riesce anche a rimontarla addirittura con un uomo in meno per poi perderla nel finale allora mi viene a dire te lo meriti te lo meriti però perché mi viene il nervoso perché questi sono appunto i punti che le squadre lasciano indietro quando hanno le coppe noi che le coppe non ce le abbiamo il turnover quest'anno non dobbiamo neanche immaginarcelo per quanto mi riguarda dobbiamo neanche pensarlo una volta a settimana giochi e giochi sempre con quelli vetti che c'hai la coppa italia in mezzo fa lo stesso per una volta perché ogni tanto c'è la coppa italia giocano quelli cioè io questa stagione secondo me era davvero da andare in campo con 11 giocatori quasi sempre fissi a seconda della condizione fisica e basta senza far calcoli poi c'è quella poi diffidato quelli li giocano perché poi le squadre lasciano indietro dei punti e il milan ieri sera ha fatto una follia ma secondo me non è che sia proprio qui da festeggiare è il fatto che il milan non ci ha superato da festeggiare secondo me c'è poco se non niente e non niente perché significa che sia juve che milan sta facendo dei campionati abbastanza così di squadra vera e propria ce n'è una ed è l'inter e sta andando via questa è un po' la roba che mi fa arrabbiare però ieri sera al di là di quello che è il calcio le scelte di pioli il milan il controsorpasso non effettuato che lasciando a parte perché adesso bisogna concentrarsi sulla juve non su quegli altri sulla juve ieri sera hanno parlato due icone che hanno parlato alessandro del piero e marcello lippi quando parlano alessandro del piero e marcello lippi muti in silenzio ad ascoltare perché hanno dato degli spunti di riflessioni interessanti partirei da del piero che al club di sky sport con caressa ha tirato fuori diverse tematiche interessanti come la prima e dice credo che ci siano molte tematiche con attenuanti sia per allegri sia per i calciatori sia per il risultato finale esempio i casi pogba e fagioli che non aiutano extra campo la juve ha diversi attenuanti e poi la squadra ha molti ragazzi che per la prima volta affrontano determinate partite quindi parte con la carota e poi inizia a tirare fuori il bastone perché del piero ci ha fatto capire che tutto quello che voleva dire non l'ha potuto dire ma poi ci arriviamo dove ci sono meno attenuanti appunto non luca toselli alessandro del piero c'è una differenza abissale è che la juve doveva e deve sfruttare il non avere le coppe nonostante i problemi dell'anno scorso dove allegri è stato bravo a tenere unita la squadra doveva arrivare a questo punto dove gli altri le coppe aveva le coppe e arrivare diversamente dal punto di vista mentale nervoso e anche fisico esattamente il discorso che facevo in apertura del piero sottolinea questa cosa attenzione non lo dico oggi perché lo dice del piero lo dico da quest'estate che l'unica cosa positiva per la juve quest'anno era questa il fatto di non avere le coppe e nei momenti in cui gli altri giocavano pensavano programmavano andavamo in campo sempre con quelli e dovevamo andare a fare i nostri punti del piero dice del piero dice dal punto di vista dell'extracampo i problemi che ci sono stati l'anno scorso allegri è stato bravissimo è come dargli torto però non è una roba sportiva appunto è una roba extracampo in una situazione in cui le cose non vanno bene allegra le sue responsabilità di sicuro come il suo staff come la società e come i calciatori poi vanno suddivise le percentuali ma non è questo il posto per farlo e del piero fa una fotografia perfetta quando le cose vanno male non è colpa di uno è colpa di tutti poi ci sono delle percentuali maggiore da una parte minore dall'altra indubbiamente e ancora continua l'anno scorso allegri non è stato bravo è stato eccellente è stato eroico lui come tutti i calciatori a creare un ambiente che li potesse portare in champions chi è passato dal 2006 da calciopoli sa per certo che in quei momenti lì è difficile puoi pensare al campo e allora del piero è perfetto nel dire sì per tutte quelle che erano le difficoltà tutti i momenti extracampo sia allegri sia i calciatori hanno comunque portato la barca in porto questa è la seconda parte di stagione perché spesso e volentieri abbiamo questa analisi che per me è giustissima una fotografia perfetta allegri è la squadra bravissimi a compattarsi nel momento difficoltà e comunque portare la juve in champions ma già nella prima parte di stagione era crollato completamente tutto poi dice come anche dei meriti quest'anno come ildis e tanti giovani che sono entrati e rappresentano appunto dei meriti poi ci sono delle situazioni che devono modificarsi col tempo non solo allegri ma tutto il mondo juve se giochi nella juve nell'arco degli anni in cui ci giochi poi devi migliorare non può essere lo stesso di quando sei arrivato questa è la juventus del piero fa una fotografia molto precisa e dice alla juventus non ci si accontenta cioè se te arrivi alla juventus e sei dieci su venti e passano due tre anni la juventus e sei nove su venti undici su venti o dieci su venti non sei fatto per la juventus per quello che se si arriva la juventus e il primo anno si arriva quarti il secondo anno si arriva terzi il terzo anno si arriva secondi terzi ma sempre a 10 15 punti degli avversari è un problema sia lato calciatore sia lato allenatore perché non c'è mai la volontà di migliorare e non bisogna mai nascondersi dietro al dito dell'obiettivo minimo l'obiettivo minimo la juventus non deve esistere cioè l'obiettivo minimo la juve è una roba che non deve neanche essere presa in considerazione si tira fuori alla fine dell'anno si è andata veramente male si dice oh gli obiettivi non li abbia raggiunti ma quelli minimi sì quelli minimi sì perché non dimentichiamoci che oggi la narrativa è l'importante arrivare in champions ma la conferenza stampa 1 di allegri udinese juventus allegri parla di obiettivi minimi e dice la società come minimo mi ha chiesto di entrare in champions che è ben diversa dalla richiesta obiettivo minimo è una cosa e alla juventus non si deve parlare a maggior ragione a giornata 1 di serie a di una serie a senza le coppe dove si era stati bravi comunque ad arrivare ma l'extracampo te l'aveva tolte e non puoi far passare il concetto che se arrivi in champions allora tutto è andato bene perché sennò qua non saremmo ad essere incazzati come delle iene perché oh cavolo siamo secondi meraviglioso no siamo secondi quindi in champions ci siamo invece sono tutti arrabbiati tutti tutti anche l'allenatore anche i giocatori non capisco perché se l'obiettivo era quello di arrivare in champions allora non si dovrebbe essere arrabbiati forse perché ci siamo costruiti una barriera che non esiste forse e poi arriva al momento clou perché caressa gli fa la domanda delle domande dice ma ale tu te resti allegri e del piero si arrabbia anche perché capisce che la discussione diventa poi marcia cioè alla domanda tu te resti allegri è già diventata marcia la discussione perché caressa dice ma ci sono dei preconcetti che poi si ragiona sui pensieri sì preconcetti ci sono ci sono fabio i preconcetti ci sono anche nel dire che comunque in questi tre anni si è lavorato bene questi sono preconcetti perché appunto quando sarà eventus il minimo non esiste allora del piero dice non sta mai decidere fabio tanto sai che non ti risponderò mai su sta roba qua che cosa significa se del piero avesse voluto dire per me allegri l'uomo giusto che problema c'era dirlo ha detto che è stato eroico è stato bravissimo nei momenti difficoltà dell'extracampo allora perché terresti allegri non ti risponderò mai perché la risposta non era la risposta che si poteva dare probabilmente immaginatevi del piero che dice no guarda non terrei allegri c'è alessandro del piero che dice non terrei la natura attuale della juventus terremoto del piero lo sa che è una domanda marcia lo sa che va in difficoltà e allora da una non risposta che purtroppo diventa una risposta perché purtroppo diventa una risposta perché le alternative erano rispondere con una bugia quello che voleva sentirsi dire caressa o non rispondere barricandosi dietro una risposta che ci regala anche un altro spunto di riflessione perché del piero dice se un giorno posso decidere allora posso rispondere ma se non decido niente non rispondo tradotto io in società ci andrei pure se ho la possibilità di decidere per la juve allora ben venga io posso dare la mia lettura ovviamente non al club di sky ma nelle stanze dei bottoni della juventus nel momento in cui non posso decidere non vado a lanciare una bomba all'interno di una discussione che è già marcia perché veniamo da otto anni con lo stesso allenatore in panchina nel bene e nel male quindi del piero è stato perfetto ma la sua non risposta ci fa capire quella che è effettivamente la sua risposta perché se no semplicemente avrebbe risposto io allegri lo terrei punto è talmente complessa la situazione che va studiata con calma l'anno scorso è stato eccellente come tutta la squadra ma quest'anno ci sono situazioni che devono migliorare del piero dice va bene l'anno scorso ti sei trovato nella situazione difficile extra campo sei comunque riuscito a compattarti ad arrivare in champions però se quest'anno dice del piero sei secondo a due punti devi un attimino dire ora ragazzi è vero che noi dobbiamo andare in champions ma attenzione un'occhiata lì buttiamola metti caso che loro hanno una crisi capisci perché abbiamo fatto così sia con conta al primo anno sia con l'ipi nel 94 quindi a del piero dà molta fastidio questo discorso degli obiettivi minimi te lo fa capire si altera anche mentre dice questa cosa perché perché hai un impegno settimana dopo che l'anno scorso hai avuto dei problemi extra campo e invece arrivi lì in quel momento decisivo in cui dal punto di vista fisico non ci sei dal punto di vista mentale non ci sei dal punto di vista comunicativo l'obiettivo è soltanto andare in champions allora c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va perché del piero ti dice ci sono stati degli anni in cui partivamo e non era l'obiettivo ma nel momento in cui e poi ci diceva le cose in faccia poi magari allegra nello spogliatoio il primo che dice dobbiamo vincere lo scudetto dobbiamo vincere lo scudetto dobbiamo vincere lo scudetto però poi allora andiamo a sentire quello che ti dice l'ipi perché l'ipi dice ho avuto la fortuna di fare una carriera dove avevo dei giocatori bravi perché senza giocatori bravi non si vince e questo è un dato di fatto non fatemi passare il fatto che arriva guardiola la juventus e vince alla champions cioè non funziona così serve il connubio le cose funzionano quando ci sono tutte le cose che vanno bene e ripeto per me l'obiettivo qua non era vincere lo scudetto ma nemmeno fare delle figuracce del genere e nemmeno dopo tre anni ritornare sempre a leggere il patto il patto spogliatoio ancora per il quarto anno di fila con tre mesi di calcio ancora da giocare con obiettivi che boh ci sono non ci sono almeno rimani lì ancorato almeno non mollare nel momento decisivo queste sono le cose perché se allegri è bravo a compattare allora è colpa di allegri quando il gruppo si sfalda o è colpa del gruppo quando si sfalda ma è bravo allegri è merito di allegri quando si compatta ma hanno sempre viste tutte le cose l'anno scorso è stato bravo allegri e brava la squadra a compattarsi dopo che aveva già fallito diversi obiettivi sportivi a compattarsi a finire l'anno come quest'anno era stato bravo allegri la squadra a compattarsi ad arrivarsi lì e non sono stati bravi né allegri né la squadra a sfaldarsi e a fare in modo che la stagione sia andata in questo modo qui che non è terminata eppure dobbia leggere ancora i patti spogliatoio e l'IP dice però sono stato abbastanza bravo anch'io a fare entrare nella testa di quei giocatori che avevano delle possibilità prima di ogni manifestazione dicevo sempre ai miei giocatori adesso andiamo e vinciamo adesso andiamo e vinciamo perché i giocatori devono pensare alla vittoria non devono pensare alla partecipazione per quanto buona possa essere devono pensare a vincere ragazzi non Luca Toselli Alessandro Del Piero e Marcello Lippi Luca Toselli è un appassionato che si mette qui e registra fotocamera, microfono, computer e dice la sua opinione stop ma se Alessandro Del Piero e Marcello Lippi ti dicono che i giocatori devono sentirsi dire determinate cose che alla Juventus non ci sono gli obiettivi minimi e che nei momenti clou a maggior ragione senza coppe quel qualcosa in più va tirato fuori e che non si può ragionare sempre solo per l'extracampo ma poi bisogna anche valutare dei miglioramenti sul campo secondo me la situazione si spiega da sola e attenzione Lippi ha un ottimo rapporto con Allegri quella di Lippi non è una frecciatina d'Allegri che sia chiara questa cosa quella di Lippi non è una frecciatina d'Allegri è semplicemente raccontare la sua storia Lippi ha raccontato il suo metodo non voleva fare nessun tipo di collegamento ad Allegri su Del Piero invece la situazione è differente perché a Del Piero hanno chiesto effettivamente di Allegri e allora Del Piero ha fatto la sua parte è stato perfetto ha detto tiriamo fuori le cose positive che ci sono state che sono tutte cose extracampo e l'allenatore non può essere appregnato sulle cose extracampo ma le ha tirate fuori giustamente non si possono non dare questi meriti dal punto di vista di gestione delle situazioni di emergenza extracampo poi quando gli è stata fatta la domanda delle domande non se l'è sentita di mentire non se l'è sentita nemmeno di dire quello che pensava ha dato la risposta perfetta per non far alimentare in questo momento in cui la Juve non ha bisogno di Del Piero che va alle telecamere e dice non terrei Allegri non ne ha bisogno ha cercato di contenere il danno ma facendo comunque capire quello che è il suo pensiero questa è un po' la mia lettura delle parole di Lippi e di Del Piero ho voluto leggervele tutte perché è un conto a leggere solo degli estratti perché mi è capitato di leggere in queste ultime ore del Piero Titoloni del Piero Eroico Allegri bla 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 l'ha detto indubbiamente però riportiamo tutto riportiamo tutto e soprattutto andiamo a recuperare ci sono sul canale youtube di Sky queste clip due clip di Del Piero ci sono due clip di Del Piero andatele a recuperare adorano tipo tre minuti l'una, una, due rotte una, tre rotte e andatevi anche a ascoltare il tono con cui Del Piero dice certe cose le facce con cui dice certe cose perché quando Alessandro Del Piero parla tutti zitti ascoltare e imparare perché lui era Juventus è una.